c'è mi fiaci stifari di tutti da sciata vediamo petre nere cucina pizza autentica petre nere qua è ma è questo locale bellissimo bisogna prenotarlo perché è molto richiesto ma come ci diciamo ora questi che devi festeggiare fra quattro anni ma chissà quante prenotazioni hanno anche fra dieci anni prenotiamola lo chiesce e ce l'andiamo subito tu stai dicendo non mi fa rifare i malacombassi non è un albergo è un ristorante appunto non mi fa rifare i malacombassi ragazzi siamo a riposto mi fici venire a riposto perché lui deve festeggiare qua i suoi settant'anni fra quattro anni e se hanno l'agenda piena e già quel giorno è occupato amara tope allora verifichiamo questa cosa e ce ne andiamo mi fa rifare i brutti figuri petre nere i due va bene ragazzi adesso però è bello e vabbè ora la voglia la facciamo vedere anche a loro no ragazzi ora vi faccio vedere questa location che conta scelto favorito mio non mi sta convincendo però si è bello vabbè ragazzi a dopo ma dopo anzi no no quella dopo continua va con di continuo continuo perché voglio vedere quando arrivi all'ingresso chi brutti figuri però è bellissima ragazzi va bene va l'estate questi saranno pieni ti stai pisano chiedi solo la data 17 luglio del 2030 dov'è vabbè 2000 2028 vabbè ragazzi a tra poco a tra poco non siamo troppo diversi come sesso e samba sesso e samba come sesso e samba sesso e samba sesso e samba sesso e samba